Avete presente quegli uomini che danno della puttana alla propria compagna, che le dicono di essere inutile, incapace o quelli che minacciano la propria ex moglie di farla soffrire, di distruggerla? Poi ci sono anche quegli uomini che perdono la testa e picchiano la donna che dicono di amare, la picchiano anche ripetutamente fino a farla morire. Io no, io non ci sto a ridere delle battute di quegli uomini, io non ci sto a chiudere un occhio di fronte alla loro violenza, io non ci sto a farmi gli affari miei, io non voglio essere complice di un uomo violento. Umiliare, minacciare, picchiare, questa violenza non è serne complice. Noino.org, uomini contro la violenza sulle donne.